Studi in Svizzera e desideri fare la differenza a livello nazionale e internazionale? Allora sei nel posto giusto. Siamo la VSS UNES-USU, l'Unione Svizzera degli Universitari. Siamo un'organizzazione mantello e rappresentiamo le organizzazioni studentesche di tutta la Svizzera. Lavoriamo insieme per tutelare i tuoi diritti e per rappresentare le tue esigenze. Studiamo nelle università, nelle scuole universitarie professionali, nelle alte scuole pedagogiche e nei Politecnici Federali. Come si può partecipare all'USU senza impegno? Nelle nostre commissioni. Qui puoi essere attivo senza la necessità di conoscenze pregresse e fare davvero la differenza. La SOLIC è la Commissione per gli Affari Internazionali e la Solidarietà dell'USU. Essa opera in tre aree principali, affari internazionali, cooperazione con l'Unione Europea degli Studenti e progetti di solidarietà. E sì, puoi parteciparvi attivamente. La commissione si adopera per promuovere opportunità di studio all'estero, soprattutto in Europa. Questo viene fatto insieme all'Unione Europea degli Studenti, che rappresenta gli studenti di oltre 40 paesi. SOLIC si batte per gli studenti dei paesi la cui situazione umanitaria è difficile e tu puoi decidere attivamente come aiutare. Anche senza alcuna esperienza pregressa, è possibile partecipare attivamente e, ad esempio, avere voce in capitolo nei grandi comitati, nell'organizzare eventi, nel contribuire con idee e così via. Potrai inoltre acquisire competenze preziose, ampliare la tua rete di contatti e fare esperienze importanti che potranno esserti utili nella tua carriera futura. Impegnati ora per un futuro migliore nelle nostre università. Contattaci senza impegno all'indirizzo info-vss-unes.ch o scrivici sui social media. Non vediamo l'ora di conoscerti! Grazie a tutti!